Buongiorno, siccome il mondo non è finito e Terni va avanti, parliamo un attimino dello sviluppo di Terni secondo Bandecchi. Tanto per cominciare volevo informare tutti che ho avviato delle trattative che sono a buon punto per l'acquisizione del Palazzetto dello Sport. Ho praticamente parlato con chi ha la possibilità di cedere il Palazzetto dello Sport e ho trovato un accordo, credo possibile, per l'accessione del Palazzetto dello Sport. L'accessione del Palazzetto dello Sport per me è una situazione importante perché non credo che a Terni il Palazzetto dello Sport possa essere identificato semplicemente per fare qualche partita di basket o di pallavolo, purtroppo le squadre che oggi fanno questo tipo di sport a Terni non raccolgano un interesse nazionale. E quindi quei 5.000 posti del Palazzetto dello Sport rischierebbero di essere spesso fermi e chiusi. Pur restando quindi il Palazzetto dello Sport a disposizione dello Sport ternano, dopo l'acquisizione che avverrà da parte mia, diventerà il Ternana Pala Eventi. Quindi il Ternana Pala Eventi diventerà il luogo dove Terni realizzerà tutti gli eventi più importanti della città, quelli che non ha mai forse potuto realizzare e che sono sempre andati naturalmente a Perugia. L'idea imprenditoriale che io ho è di creare questa nuova azienda che è la Ternana Pala Eventi per realizzare eventi di ogni genere e di ogni tipo. Faccio un esempio, la presentazione di una macchina sportiva particolare, il convegno di medicina che può raccogliere a livello internazionale 2.000 persone, la possibilità di realizzare una piccola fiera particolare o una presentazione, uno spettacolo teatrale molto importante o uno spettacolo musicale molto importante. Quindi la possibilità di realizzare eventi ogni settimana, ogni settimana per tutto l'anno all'interno del Ternana Pala Eventi. Terni cambierà completamente, quindi a mio avviso faccia cambierà aspetto perché questo porterà a tutto il commercio ternano grandissimi vantaggi, perché porterà le persone da fuori Terni, da tutta Italia o da tutto il mondo in alcuni casi a Terni. Quindi il commercio ternano dovrebbe avere un grande vantaggio da questo. Tutta la parte recettiva di Terni e dei dintorni di Terni, questa zona dovrà e avrà sicuramente un grande sviluppo grazie alla realizzazione di eventi, perché gli eventi portano le persone, portano quindi un turismo rapido, ma anche un turismo di sosta. E quindi tutti i posti letto a disposizione della città di Terni e dei dintorni, io spero che in tante occasioni durante l'arco dell'anno saranno usati. Cercherò di creare per la realizzazione di questi eventi una squadra molto importante, una squadra qualificata e una squadra di lavoro che dia soddisfazione alla città. Quando parlo di sviluppo di Terni e della città e della Ternana come elemento di base di sviluppo della città parlo di questo. Non importa far politica per far crescere la Ternana, o almeno per me non importa, perché fortunatamente il mio stipendio lo porto a casa tutti i mesi uguali, anzi, mi permettono domani di partire e di usare il mio yacht per una bella settimana di vacanza. Quindi Calenda non se ne avesse a male, evidentemente, se io penso di essere intelligente come lui, quantomeno, e di essere anche migliore a livello fisico, perché io ho fatto il paracadutista. Detto ciò, lo sviluppo della città e di questa metà dell'Umbria continuerà in maniera decisa. Chiaramente continuerà anche la mia carriera politica, ma questa ve la spiego in un altro momento e poi vi dirò chi appoggerò io in queste elezioni a Terni. Intanto vi ho comunicato, perché volevo comunicarvi il fatto che questa attività commerciale che io voglio mettere su, ringrazio anche l'impresa che sta costruendo in questo momento il palazzetto dello sport, perché sta facendo uno sforzo grande, importante, enorme. Poi però a questo palazzetto bisogna dargli vita, un po' come doveva succedere con le piscine e con tutto il resto. Io ho intenzione di dare vita a questo palazzetto, perché come ho detto, ecco che essere disponibile, essere diventato ternano, mi fa ragionare in questa maniera. E questa sorta di impresa darà soddisfazione a tutta Terni. Cambierà la faccia di Terni, perché vedrete che la prima impresa ternana non sarà sicuramente più a questo punto l'acciaieria di Terni, ma diventerà il palazzetto, perché il palazzetto porterà a Terni tanta, tanta, tanta gente. E se riuscirà a portare da settembre, ottobre del prossimo anno in poi, 3, 4 mila, 5 mila persone, che forse non sapevano manco dov'era a Terni, a Terni, se farà lavorare quei mille posti letto che comunque oggi a Terni esistano, se farà lavorare anche quei 300 posti letto che intorno a Terni esistano, se porterà avventure nuove a Terni, porterà l'infa vitale per tutto il commercio ternano. Quindi non abbiate paura nel prossimo anno, abbiate fede, ci saranno gli aumenti dell'energia elettrica, ci saranno gli aumenti del gas, perché purtroppo la nostra politica momentaneamente non è molto vivace, ma ci sarà anche un futuro possibile per la città di Terni, un futuro pieno di commercio e pieno di posti di lavoro. E Bandecchi Stefano, insieme alla Ternana.